Visto? La mia bambina cresce così in fretta! L'obiettivo è in movimento. Ha in mano una valigetta. Piani individuati. Entro in azione. Non ti hanno insegnato che non si gioca con i fiammiferi? Suggerisco vivamente il filetto di sogliela. Non posso credere che mi hai colpito! Sono solo una bambina! Una bambina che ti ha appena dato una lezione, bello! Che dire di più rilassati al fresco! Che c'è? Non avete mai visto una spia adolescente? Scusatemi, non ho avuto tempo per il dessert! Bambina è stata un po' di cricket Vieni i servizi di servizi.